I nuovi punti informativi per i turisti a Pescara saranno gestiti dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'ente Manifestazioni Pescaresi. Presidente, è una bella iniziativa ma soprattutto utile per chi deciderà di venire nella nostra città in vacanza? Sì, sicuramente è un'iniziativa molto utile ed è molto interessante che l'ente Manifestazioni Pescaresi, che si occupa di organizzazioni di spettacoli, di manifestazioni culturali, inauguri questa nuova strada nei confronti dei servizi turistici. Peraltro individuando un obiettivo strategico che è previsto dallo Statuto che sin dagli anni 50 prevedeva questa unione tra manifestazioni culturali e intervento turistico. Quindi è un servizio estremamente interessante con cui cercheremo anche di dare una visione creativa di questo servizio di informazioni turistiche. Le turistiche negli ultimi due anni, 2015-2017, sono aumentati. Passiamo da 188 mila presenze a circa 250 mila in città. È un lavoro di accoglienza che prevede per quest'anno due punti informazioni, due centri di informazione turistica. Uno su Piazza della Rinascita all'Urban Box, Piazza Salotto, un altro in Piazza Muzzi nel cuore della Movida anche per intrattenere con piccole reading nelle ore serari un pubblico numeroso. Le novità derivano anche dall'investitura delle ente Manifestazioni Pescaresi. In questa tipologia di servizio abbiamo affidato a loro i centri informazione e non solo, ci sarà la possibilità anche di acquistare il materiale promozionale della città con il siti branding Pescara Urban Emotion e anche quello dell'ente Manifestazioni Pescaresi che organizza al meglio anche per quest'anno il Pescara Jets, e poi una grande stagione di concerti nel teatro d'annunzio. Un modo per dare informazioni ma anche per far sì che la città sposi sempre di più la cultura non solo dell'accoglienza ma anche degli investimenti nei confronti dell'economia e del turismo che può ancora di più diventare materia di promozione e di sviluppo della nostra città.